Puglia, una terra che vola, il titolo evocativo scelto per la presentazione del numero 6 di Mirra, il Dono del Sud, presentato ieri 7 ottobre presso la Sala Convegni del Polo Museale di Trani in Piazza Duomo. Relatori nella presentazione guidata da Gian Nicola Sinisi, Alfonso Centuori, Umberto De Agustinis, Ruggero Inchingolo, Roberta Lucchini, Giorgio Salvatori e Francesco Serra di Cassano. La presentazione, traendo spunto dai temi affrontati nel numero di Mirra, ha evidenziato l'operosità e la ricchezza culturale, storica ed anche economica del Mezzogiorno. Il titolo della presentazione può essere letto in due sensi, quello letterare e quello evocativo. Il senso letterale non può che rimandare al distretto aerospaziale pugliese perché il territorio è stato centro nevlagico per lo sviluppo di questo importante settore industriale. Il senso evocativo invece rimanda a tutte le altre importanti caratteristiche di un territorio, storia e tradizioni in primis. La Puglia è ricca di storia, sia per personaggi cui ha dato i Natali, sia per chi ha attraversato il suo territorio. L'ha trovato strategicamente e morfologicamente eccellente, lasciando oggi un patrimonio storico-artistico di ineguagliabile bellezza, che tra gli altri ha attirato il cinema nazionale e internazionale. Si è dunque superata la visione della Puglia come la terra dei trulli. Durante l'incontro è stato presentato il numero che ha permesso a tutti i presenti di immergersi in tutto quello che è la Puglia, un piccolo assaggio di cultura, storia e tradizioni.